Inaugurata stamattina una mostra di giocattoli e fotografie di Mario Marzott, fotografo ed esperto della comunicazione audiovisiva presso il 13esimo circolo didattico Sandro Pertini, al quartiere Paolo Sesso di Taranto. Agli alunni delle elementari è stato spiegato come sia importante conoscere il prossimo, senza soffermarsi su ciò che ci rende diversi ma su quello che ci accomuna, in un percorso di educazione interculturale. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Interculturale Nelson Mandela di Taranto e dalla Fondazione Manuel, i cui rappresentanti hanno sottolineato l'importanza del gioco per conoscere l'altro. Cento i pezzi in esposizione. Questa iniziativa in particolare di mostra, promossa dalla Fondazione Manuel, ha come obiettivo quello di fermarci a riflettere sul senso dell'altro, del diverso, attraverso il gioco. Quello che manca oggi è il tempo, si fa tutto di corsa, non c'è tempo per stare insieme, perché bisogna fare un miliardo di cose e i bambini sentono il bisogno di fermarsi, di fermarsi perché hanno bisogno di colmare la loro curiosità, hanno tante domande da fare, hanno in sé questa creatività, questo desiderio di esprimersi e di realizzarsi. La cultura di domani sarà fondata attraverso quello che i bambini e i ragazzi riusciranno a assorbire e a maturare in questi periodi che sono fondamentali nella loro crescita. Allora se già da oggi incominciano a vedere che ci sono delle altre persone intorno a loro, che è bellissimo conoscere, non solo negli aspetti più belli che sono quelli del gioco, ma anche nei loro sentimenti più profondi che sono quelli che hanno purtroppo portato con sé e che sicuramente rimarranno indelebili nella loro vita, che sono il senso della partenza da un paese nel quale si è nati, il senso del viaggio doloroso e difficile dove hanno affrontato tante difficoltà e finalmente c'è una terra, che è questa, la nostra di Taranto, dove hanno potuto iniziare a vedere che c'è qualcosa di nuovo, di bello nel loro futuro.